Le nuove frontiere della cura del piede adiabetico passano dalla rigenerazione cellulare. L'approccio terapeutico nella gestione dei pazienti complessi ha raggiunto infatti nuovi traguardi che consentiranno in un futuro non troppo lontano di ridurre al minimo i casi estremi di amputazione degli arti inferiori grazie alla tecnica della chirurgia rigenerativa e l'uso del tessuto grasso nella riparazione di ferite difficili e ulcere. Proprio di tecniche innovative nel trattamento del piede adiabetico si è parlato nel terzo incontro biennale destinato a medici, infermieri e fisioterapisti che si è svolto al Villa Maria Hotel di Francavilla al Mare. Presidente e responsabile scientifico del congresso è stato il dottor Gustavo Velasquez, responsabile della chirurgia del piede diabetico e delle ferite difficili della casa di cura Pierangeli di Pescara. La giornata è stata con una gran quantità di assistenza dei medici non solamente regionali, quasi sono ectrarregionali, Roma, Barese, Asti, Bari, gente molto esperta nell'area di regenerazione cellulare e chirurgia del piede diabetico. La problematica del piede diabetico è una popolazione che invecchia e molto importante, anche la parte delle ferite difficili che non si vedono solamente invecchie, si possono vedere anche nei giovani quando hanno problemi di lesione post-traumatica. La parte di medicina regenerativa sarà il futuro della regenerazione cellulare e sarà il futuro della guarigione dei pazienti. Noi stiamo lavorando su questo da circa 20 anni, l'idea è fare un reparto che già lo abbiamo con 10-12 postiletti per questo tipo di patologia, di tal forma che il paziente non faccia il viaggio che deve andare al nord. Noi abruxese, io mi sento abruxese, possiamo risolvere le cose qua e anche aiutare alle altre regioni del sud a risolvere il problema e non andare tanto lontano, perché tutta la tecnologia la abbiamo e abbiamo anche tutta la buona disposizione della gente della clinica Pierangeli per risolverlo. Ho della preparazione delle infermieri che sono tutti qua, la caposala, la dottoressa Raffaella De Lio, la mi aiuto la dottoressa De Luca. Come si fa a rigenerare a livello cellulare un piede diabetico? Sono varie tecniche, sono la tecnica dei monociti, sono la tecnica del grasso che noi implementiamo da abbastanza tempo nella clinica che provocano anche la rigenerazione del tessuto vasculare e rigenerando il tessuto vasculare il paziente probabilmente o l'amputazione minima o non sarà necessità dell'amputazione. Tutto questo è in sviluppo, nessuno può dire che non si faranno amputazione, sicuramente si faranno, però saranno sempre più minima con rispetto a prima. L'idea nostra è sempre evitare l'amputazione maggiore a meno che sia estrettamente necessaria. Quali sono i numeri che fotografano la situazione in Abruzzo? Ancora c'è una gran quantità di amputazione maggiore per varie cause. La prevenzione è la cosa più importante. L'assistere alla consulenza diabetologica è molto importante. Che farsi i controlli è molto importante. Che vedere le lesioni precocemente è molto importante. È meglio prevenire, è meglio trattare le cose quando stanno cominciando, non quando dopo non abbiamo tanta possibilità di darle una mano.